Un furto di mezzi agricoli dietro l'altro, addirittura quattro in soli sei mesi. L'esasperazione che arriva alle stelle, il senso di impotenza, la voglia di lasciare. Difficile nel periodo della raccolta delle olive, la vita nelle campagne. Siamo a Barletta e il proprietario di un fondo denuncia. L'ultima volta si è trovato i ladri in casa, una banda di cinque persone, forse stranieri, dice lui, sono entrati nel mio terreno e li ho visti solo all'ultimo momento. Gente che arriva con determinatezza e presumo che conoscono bene la zona, anche le vie di fuga e tutto il resto. Si dice pronto a lasciare, come lui, tanti altri agricoltori della zona. Nonostante l'impegno delle forze dell'ordine, il fenomeno sembra ormai dilagante. Non possiamo intervenire, in quanto abbiamo una sola macchina che deve girare su Barletta. Però laddove arrivavano con tempestività, potevamo ben acciuffare questi malfattori.